e si è appena conclusa qui la prima partita della giornata qui siamo nell'ospedale fuoricoltura Saletti strabiliante vittoria qui con noi c'è Gianni, centrocampista risultato finale della partita? 6 a 1 iniziamo subito con un piccolo riassunto una partita all'inizio giocata alla pari poi pian piano ha prevalso la superiorità della fuoricoltura due parole spese in positivo sugli avversari? una buona squadra con dei limiti difensivi più che altro la luce del risultato di oggi, ambizioni per il championship? ma speriamo, la strada è quella giusta vediamo più avanti, è lunga grazie per la disponibilità speriamo di rivederci con altri risultati positivi come sempre tra l'altro ciao, grazie buca lupo